Non preoccuparti mamma, lo domerò io e lo adestrerò bene. Sarà meglio, avanti comincia allora. Vediamo se il figlio può rimediare i danni che quel folle del padre ha fatto a questa famiglia. Siamo in guerra! Siamo in guerra contro la Germania! Suoneranno le campane alle 6 di stasera. E poi non suoneranno più finché la guerra non sarà finita. Non finirà così, non finirà così, fratello mio. Io, alberi, narra con giù risolendemente che tu e io saremo di nuovo insieme. Ovunque tu sarai io ti troverò. E ti riporterò a casa con me. Siamo in guerra. Siamo in guerra. Mano! E' in battaglia, dice qui. Siamo in guerra. Un cavallo che hanno trovato vaggava nella terra di nessuno a questa giornata. Che tipo di cavallo? Un cavallo del tipo miracoloso, secondo me. Non si esce a vivi dalla terra di nessuno.